Oggi come oggi nel pubblico facciamo soltanto le visite richieste dal datore di lavoro. Sono un incremento, chiedo se centinaia di migliaia di incremento rispetto a 600.000 o... 600.000 sono il privato, attenzione non confondiamoci, mentre qui stiamo parlando del pubblico. Nel caso del pubblico SINFILIMS non faceva visite se non quelle richieste dal datore di lavoro, le cominceremo a fare con le d'ufficio e abbiamo, come dicevo prima, centinaia di migliaia di visite che ne potremo fare con quelle risorse che ci sono state date. Esattamente.